Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Overwatch Competitivi Il mio nome è come sempre qui e tu non vedete e questo oggi siamo tutti qui riuniti Per dimostrarvi che è possibile arrivare in platino in solo Q Ogni volta che lo dico mi sento sempre più scemo Comunque siamo a 2268, il nostro massimo stagionale è sempre 2487 E dobbiamo almeno ritornare sui 2300 con questa partita Spero, sta passando un'ambulanza non è un buon segno Ok ragazzi siamo su King's Row, potrei andare o di Zegnatta o di Reaper Vediamo un po' Reaper mi piace ma magari non funziona, c'era già il Reaper va bene E allora andiamo della Zegna Dai eh Abbiamo il Reinhardt, abbiamo una Tracer e un Genji Troppi flanker secondo me Troppi troppi flanker, poco danno diretto One more tank would be nice, esattamente Yeah, need one more tank Dai eh Il Reaper me l'hanno rubato quindi il Reaper me l'hanno rubato quindi il Reaper nazionale non si fa Aspettiamo in base e preghiamo in Dio che qualcuno cambi Ok ragazzi, tra poco si parte Guardate il Cibignatta che bello è È bellissimo Let's do this Bastardo Grazie mille Allora iniziamo a cercare di fare un po' di danni alla gente Tu 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 tu, posso Comunque posso Cercare di fare danni io Ma no, non la prendo, su serio? Oh, un po' di danni così Buongiorno Curiamo Chi è critico lì? Beh beh, è in fondo al culo del mondo Curiamolo, curiamolo, curiamolo Madonna Muori E io te sto a cura' però Attenzione Dai Madonna Dai Non ha vita Come fa a essere vivo? Quanto vita aveva ragazzi? Quanta vita aveva? 5 5 su 500 Aveva 1% di vita Vabbè abbiamo la ulti up Direi che è il momento di fare tipo Oh E che cazzo però E dai eh E dai eh Madonna Niente Sono arrivato leggermente troppo in ritardo Ciao Eh Ho schicciato shift io per curarti ma Andiamo a cura' lei Niente Lei è morta male Merda Salve Buongiorno Come andiamo Potremmo avere un problema Mi sono chiuso In una situazione un po' del cazzo Niente infatti Mi ero chiuso in una situazione leggermente del cazzo Però io sono gold per i danni Col fatto che abbiamo un Genji Una Tracer E un E un Reaper Il fatto che Zegniatta Sia gold Nei danni Mi preoccupa Non poco Ma non poco tanto Onestamente Forse è il caso di andare con un altro tank E via Dai che stavo uno di vita Quel cazzo di Junkrat Ah abbiamo una Diva E che cazzo avevo la ulti Avevo la ulti e non l'ho usata Oddio mi è arrivata al pelo mi sembra Quindi probabilmente non sarei riuscita ad usarla Però sarebbe stata un'ottima ottima risposta Alla Alla ulti del coso Dai eh Madonna mia muori Dai 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 Su 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 No scatena un cazzo Scatena Scatena un cazzo proprio Scatena un cazzo No No Io mi nascondo qua dietro Ok Uccidi là Perfetto Prendiamo il punto Dai Dai Con l'ultimo push Con l'ultimo push Infatti a due tank abbiamo preso il punto immediatamente Comunque Vorrei dirvelo Eh Avevo ragione no Infatti Hanno Hanno fareso dei damage dealers un po' più diretti Abbiamo tolto il genji Abbiamo tolto i flanker praticamente Abbiamo solo Reaper che secondo me è uno dei più forti Insieme a un genji Se un genji Viene utilizzato bene Allora è forte Dai Facciamo muovere sto carico Let's do this E vieni qua Vieni qua Madonna Ste cure Allora Reaper Curiamolo Dobbiamo iniziare a sniperare la gente Buona st'autodestruck Perfetta Dai 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 Un po' di danni Curiamo quella Ok È stato un piacere Dai 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 Spingiamo 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 Oh yeah Oh se La mercy Oh merda Scimione incazzato Scimione incazzata Oh merda Nope Mi dispiace Mi dispiace un sacco Mi dispiace un sacco Che cazzo vai Uh Vieni qua tesoro Qualcuno Meni quella Ah Aiuto Lucio Curami Bravo Lucio Andiamo Spingi 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 Non spingiamo più Curiamo quello Dai Curiamo lui Dai Gesù Ce l'abbiamo fatta Ma sul serio Puttanella qua Morta Perfetta Merda Via Oh Ce l'abbiamo fatta Non ho idea di come Ma ce l'abbiamo fatta Abbiamo spinto Fino alla fine E io non ho più L'oro nei danni Il che è buono Il che è buono Perché ha avuto L'oro dei danni Fino a quasi L'ultimo secondo Del primo punto Quindi Va bene Allora Quando di me Io potrei andare Di Lucio Se lui picca No abbiamo due tank Potrebbe piccare Per un altro dps Baza Perché con Lucio Dovrei riuscire A tenerci su Più o meno tutti Nella zona del punto E possono tornare Da me a curare No vabbè Andata per una Per un'ana Ana mi piace Come healer Ma la vedo più Come un healer Offensivo Tipo zegnatta No Lucio riesce A fare tutto Riesce a fare anche Il singolo healer Quindi rimanere Lì curare Eccetera Eccetera E Invece mi piace Molto Mercy Come healer Difensivo On target Quindi un heal Molto più elevato Ma su una persona Singola Mentre Lucio Ha un heal Totale Su tante persone Quindi Il punto è Riuscire a curare Quante più persone Possibili Nonna Nyeh Nyeh Olè Mi piace troppo scalare Sta cosa È troppo bello Va bene Comunque Qua prendo Quattro persone Ottimo Ah no Lo shift Lo devo dimenticare Io tra tutto C'ho il coso Che mi scambia Quando premo shift Per andare più veloce Mi scambia la musica Dai su Vediamo se riusciamo a hittare No eh Mai nella vita proprio Buongiorno Ciao Che cazzo è Dove sei Para Where are you Madonna Mi danni Vai di cura Ok Farà Fare mercy Lì in alto Potrebbe essere Un problema Mercy Uccidi la mercy No eh Va bene Uccidere la mercy Ci avrebbe fatto guadagnare Un po' di tempo Yeah Volume al massimo Bravo Bravo Curiamo Curiamo tutti Perfetto Farà Hai rotto il cazzo E io me ne sto qua E baffanculo Yeah Ipercure Allora se entrano con una ulti Posso usare la mia Q Posso usare la mia di ulti No perché siete andati Perché state pushando Perché state pushando Oh Una kill Ok Boom Uccideteli Io spero No niente Mi ha preso male E non sapevo dove andare Onestamente Perché quella ulti È stata tirata Proprio carina Dobbiamo accelerare Stanno contendendo il punto eh Stanno contendendo il punto Devono spingerlo fino in fondo Andiamo veloci Vai Ok Curiamoli tutti Iniziamo a fare un po' di danni E caricare un po' la ulti Oh merda Potremmo avere un problema No E niente Sono morti male Non ho capito perché hanno pushato prima Il push di prima Ci ha lasciato in tre E loro poi hanno iniziato a uscire Le ha arrestati o no? Sì 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 Uh sta ulti Brutta Terci vostra Eh dobbiamo lasciarglielo per forza Dobbiamo lasciarglielo per forza Ci dobbiamo raggruppare qua E basta E basta Ho la ulti eh Quindi Aia Merda Boom Dai Spingiamoli via dal punto Oh merda Sì Questo è un problema Questo è un problema Oh No Non è un problema Non è un problema Non è un problema Uccidieteli tutti Mi piace Dai 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 Divano una almecca Buona quella ulti Perché le abbiamo tenuti un po' lontani Uh la farà sopra Potrebbe essere un problema Due secondi Un secondo Nope Non lo spostate da qua Nope Eh niente Ce l'hanno fatta Però Sono gold per le cure Adesso Il che va bene Ho usato la ulti un po' sbagliata lì Però volevo Eh Tenere quanto più tempo possibile Quanto più tempo possibile Adesso vediamo se riesco a prendere quella zaria E Sì Andiamo Veloci Dai rientriamo Riescono a pushare No Non facciamoli pushare fino a qua Ragazzi Quattro secondi No Guarda come ci spingono indietro Guarda la ulti di Zegnatta Aia Zegnatta sta giocando bene la ulti Ok ho la ulti Ora devo tenermela questa ulti Devo tenermela Per il momento giusto Perché vai dentro lì così Boom Dai Non perdiamo gente adesso Ok Uh Va bene Va bene va bene va bene Dobbiamo stare fermi Un minuto Dai un minuto e mezzo Un minuto e mezzo Per tenere qua Sto cazzo di Aia Dai Solo due persone Riesco a prendere qua Via No Ah cazzo Sono entrato nello spiraio Sono cretina Anch'io devo starmi dietro al muro Potremmo avere un problema Però solo Gli manca un minuto Noi abbiamo chiuso Un minuto e 51 Cerchiamo di rientrare Il più in fretta possibile Ok 60 secondi hanno Per spingere Il coso Se riescono a fare Una buona uccisione Vai Oh 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 Scuola nemica nientata GG Dai Dai 45 secondi Devono riuscire a ritornare qua Devono rinascere tutti Non la vedo Possibile Hanno 30 secondi Per Wiparci E spingere Quindi Devo caricare la mia ulti Il più in fretta possibile Ci diamo quello Hanno la ulti loro Ok Hanno usato la ulti Abbiamo un bastion Curiamolo Ho la ulti Boom Cazzo mi ha ucciso Fatelo fuori Niente Mi sa che Mi sa che pushano Mi sa che push No abbiamo il bastion Abbiamo il bastion Dai dai Non possono pushare Non possono pushare Su Beh stanno pushando in realtà Vedi bastion Ok Lei è fuori Lei è morta Perfetto Yes Ce l'abbiamo fatta signori 13.000 cure Let's do it Uh Dai Non ci credo Non ci credo Uh 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 Vai Bello A me piace Quando finiscono così Le partite Quando Nonostante l'inizio Un po' roccambolesco Adesso Nesto nano boost In effetti In questo caso La Ana ci ha salvato Il culo Perché Se l'è giocata Veramente Veramente Bene Cioè Ma proprio Proprio bene Però 13.000 cure Fornite Io mi devo dare Il punticino Da solo Perché Mi son messo lì Ho curato Fin dall'inizio Del match E dai Non un granché Di cure Consegnata Ma Oggettivamente Dovevo fare un po' Di danni All'inizio Nel senso Che non avevamo Gente che faceva Reali danni Ma che consegnata 10.3 10.3 E 3.900 Però 9.000 cure Fornite con l'usio 4.5 Purtroppo Sono morto Un po' troppe volte Secondo me Ma va bene così E No Eravamo più bassi Di ranking Ma comunque Non siamo arrivati A 2300 Quindi nella prossima puntata Si spera Che ci arriveremo Fatemi sapere se vi piace Questa serie Il mio nome è Buon sempre Qui è il tuo No8 Ciao a tutti